Amici di MC Channel, ben trovati, siamo qui al Palace con il coach Massimiliano Hortensi. Massimiliano, MC Videx in vista della trasferta di Gioia del Colle, una trasferta insidiosa, una trasferta anche impreziosita dai due ex del match, vale a dire Marchiani e Sideri. Come avete preparato questa partita in settimana? Abbiamo lavorato come facciamo sempre, ci siamo concentrati molto su di noi, sul nostro gioco, cercando di tenere l'intensità dell'allenamento alta, cercando di alzare comunque sempre un pochettino di più l'asticella in vista di una partita che si preannuncia difficile contro una squadra che comunque ha delle buonissime individualità e ha avuto un ottimo inizio di campionato. Fra un po' c'è il giro di Boa, Massimiliano, finora qual è la squadra che più ti ha impressionato di questo campionato dell'MG Videx? Guarda, secondo me intanto dobbiamo vedere ancora parecchie squadre perché siamo a metà del giro dell'andata quindi ci sono ancora delle squadre che possono venire fuori, penso a Tuscani che ha avuto un inizio complicato ma che ha degli ottimi giocatori, ma anche altri insomma. Fino ad ora diciamo che probabilmente Piacenza è la squadra che forse ha più numeri dal punto di vista fisico e anche di spessore tecnico ma probabilmente Bergamo è la squadra che gioca fino ad oggi la palla a volo migliore quindi direi che queste due squadre sono quelle che poi sono quelle contro cui abbiamo perso diciamo che però di settimana in settimana i valori si vedranno meglio credo che per fare una valutazione bisognerà aspettare la fine del giro dell'andata per capire un pochettino chi è sopra e chi magari non riesce a tenere il passo. Perfetto, allora in bocca al lupo per la trasferta di Gioia del Colle e noi la seguiremo tutti su SportTube Stringiti al cuore MG Videx Stringiti al cuore exams Stringiti al cuore